Vi faremo sentire ora un altro brano che ha a che fare sempre con la cagliaritanità e tradizioni e modi di vivere nella Cagliari, soprattutto nel centro storico e questa canzone è intitolata Cenavara Zantu e qua si descrive il venerdì santo o in genere la settimana santa al centro storico dove comunque tutto un contorno suggestivo e affascinante di preparativi e anche odori di pesce che c'è dalle finestre la gente che comunque confabula le varie sfide tra i vari cori e i cantori e quindi va bene, sono tutte cose che comunque si tramandano di padre in figlio e che continuano nonostante i tempi moderni va bene, dalla voce bellissima di Veronica Pisano Cenavara Zantu che è in tonalità? Capo 2 Perfetto 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 Grazie a tutti.